Per aiutare imprese e professionisti a compilare le pratiche da inviare al registro imprese, la tua Camera di Commercio ha realizzato SARI, il servizio di assistenza del registro imprese. SARI è semplice, rapido e intuitivo. Puoi cercare l'informazione che ti interessa utilizzando il sistema di navigazione guidata o tramite il motore di ricerca. SARI elimina code e attese snervanti al telefono. Il servizio è sempre disponibile online sul sito della Camera di Commercio, senza costi e senza vincoli di orari. Se non trovi le risposte di cui hai bisogno, puoi fissare online un appuntamento telefonico con un esperto del nostro Customer Care, che ti richiamerà il giorno e all'orario che avrai indicato senza alcun costo per te. In alternativa, se preferisci, puoi inviare un quesito scritto e riceverai tempestivamente le informazioni richieste. Inoltre, tutte le domande degli utenti vengono integrate nel sistema e contribuiscono quotidianamente a rendere SARI sempre più ricco di informazioni. SARI ti aggiorna costantemente, mettendo in primo piano scadenze e avvertenze nella sezione In evidenza e tutte le novità del registro imprese e della tua Camera di Commercio nella sezione Notizie. Se invece preferisci ricevere queste informazioni comodamente sulla tua e-mail, puoi iscriverti alla newsletter direttamente sulla home page del servizio. SARI, il servizio di assistenza online del registro imprese. SARI, il servizio di assistenza online del registro imprese.